Andare con un uomo sposato o fidanzato è pericoloso. Tu non immagini neanche quanto lo sia. Adesso te lo spiego. Tu all'inizio pensi di poter gestire la situazione senza farti coinvolgere, ma il cervello umano non funziona così. Quando noi passiamo del tempo con qualcuno e soprattutto condividiamo anche l'intimità, il nostro cervello inizia a rilasciare l'ossitocina, che è l'ormone dell'amore e crea attaccamento e complicità. E non importa quanto tu cerchi di essere distaccata, il corpo e la mente lavorano per legarti emotivamente a quella persona. Il vero problema è che mentre tu stai creando anche involontariamente questo legame, lui è in una posizione completamente diversa. Lui ha già un impegno emotivo, una relazione ufficiale, anche se è complicata, anche se è tossica, mettici quello che vuoi. Ma tu, come ho già detto in un altro video, sei una fuga. Sei un modo per sfuggire alle responsabilità, ai problemi. Non sei un impegno reale. Provo a farti un esempio. Immagina di essere in montagna e vedere una bellissima baita. In circostanze normali tu ti fermeresti, l'ammireresti, potresti anche innamorarti di quella casetta, tutto il panorama intorno. Ma se sei inseguita da un orso, quella baita smette immediatamente di essere un qualcosa di cui innamorarsi. In quel momento difenta soltanto un rifugio temporaneo, un posto dove nascondersi per sfuggire a un pericolo. E tu non hai né il tempo né la calma mentale per apprezzarla davvero. Perché il tuo unico pensiero è la sopravvivenza. Magari l'esempio non è proprio dei migliori, ma hai capito il concetto? Mentre tu investi sempre di più, la sua priorità è un'altra. E anche se aumenta l'ossitocina perché passa tempo con te, a lui più di tanto non è che gli cambia niente. Perché è concentrato su altro, sulla relazione, sui suoi problemi. E lui peraltro non fa anche altro che risucchiare tutta la tua energia per colmare ciò che gli manca nella sua relazione principale. E la frustrazione psicologica di questo squilibrio è enorme. Tu non te ne rendi conto. Ma da un lato tu ti senti sempre in attesa sperando che lui faccia un giorno la scelta giusta. Dall'altro vivi nella costante insicurezza di non essere mai una priorità. Questo ti porta a un ciclo di sofferenza emotiva che può essere devastante per la tua autostima e per il tuo benessere mentale. Adesso capisci perché ti dico di lasciar perdere?